Pulsotto Berica ha sottoscritto con Sani in Veneto il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa una convenzione per l'erogazione di una serie di prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle garantite dal Sistema Sanitario Nazionale un accordo che ha carattere sperimentale ed è stato sottoscritto dopo essere stato vagliato e approvato dalla Regione del Veneto. È un primo passo verso la sperimentazione anche amministrativa di quello che potrebbe diventare un accordo sempre più forte e dare servizi sempre più efficaci ed efficienti, più semplici ai nostri iscritti. Primo accordo su base aziendale che noi ci auguriamo poi insomma possa avere un respiro regionale. Con Sani in Veneto c'è una fattiva collaborazione quindi con questo fondo integrativo che vede le parti delle categorie economiche e le parti sociali proprio nell'ottica di incrementare quelle che sono le possibilità di welfare ai propri lavoratori, ai propri familiari. In questo caso siamo nello specifico del tema sanitario e sociosanitario con delle prestazioni aggiuntive previste che sicuramente ci serviranno come modello per poi poterlo esportare. Una sorta di forte integrazione tra la componente sociale, la componente aziendale, la componente delle categorie economiche ma soprattutto in ottica di welfare a 360 gradi. Due le tipologie di servizi accordati, l'erogazione di prime visite, visite di controllo di diverse specialità e la definizione di un vero e proprio percorso di check up per la prevenzione e la diagnosi precoce. L'idea di Sani in Veneto vincente è quella di generare benessere e salute, benessere nei posti di lavoro e salute come prevenzione. Ecco che allora il tema non è solo quello della diagnostica ma arriva anche a coprire elementi come la tutela psicologica, come la non autosufficienza, cerca appunto di fare istruzione intorno a come deve essere un comportamento per prevenire le malattie. Dal punto di vista gestionale per accedere ai servizi, gli utenti dovranno essere in possesso di un'apposita card di riconoscimento rilasciata a tutti gli iscritti a Sani in Veneto. Il costo delle prestazioni sarà sostenuto direttamente dagli utenti che saranno successivamente rimborsati da Sani in Veneto. Sicuramente è un valore aggiunto, è un valore nell'ottica della sinergia tra istituzioni, in questo caso anche pubblico, e un fondo che di fatto è un fondo no profit, quindi interpreta al meglio la collaborazione e la sinergia delle prestazioni e dei fondi che possono dare un contributo su questo. La cosa interessante è che nasce un anno di sperimentazione, siamo la prima ULS nel Veneto che cerca di interpretare questo percorso che inizia da lontano, fino al 2014, nella sua valutazione di aspetti positivi, con un pacchetto di prestazioni o di check-up in ottica anche preventiva, quindi sicuramente un valore aggiunto.